A 18 minuti dal termine di questo primo tempo, 7 trascorsi, Ballardin perde una brutta palla, Busani attenzione, però è coperto, ci sono già due giocatori, ecco non lasciano molto spazio per adesso le difese, tiene c'erano già due difensori pronti a intervenire, c'è un giocatore lanciato a rete, Deinite dietro porta, davanti a Seca Sarotto, un brutto cliente, c'è un giocatore di Deinite, gol di Deinite, super gol di Deinite che rientra da dietro porta sul primo pallo, trova il 7 in alza e schiaccia, questo è un gran gol, bravo, però riesce a tirare, tiro fuori di poco, si è costruito da solo il Galiziano a quest'occasione, attenzione Emi a non commettere fallo sulla ripartenza di Consato, palla dentro e gol, gol di Poli, non visto questo taglio di Poli che dall'altra parte è arrivato, bravo Consato a vederlo, sopraggiunto dalla parte opposta, Poli realizza il suo ottavo gol in questa stagione, frutta il pareggio, per il tiene, ha un'azienza, in questo caso dietro porta Emi, però è riuscito a trovare lo spagnolo, il minolo che dice che è stata toccata la palla, quindi esatto, bravo, non si era accorto in questo caso, il tavolo del colonometristi fa ripartire il conteggio, perché la palla è stata toccata, il giocatore le tiene, attenzione, ora fallo di Casarotto, blu, bravo Lollo Barbieri qua a liberarsi molto velocemente, è stato molto abile di stecca qua e anche di gambe, Lollo Barbieri agli usi l'intervento di Casarotto in ritro. Tutto pronto, questo mi smestra, Rocca è della vecchia, parte il conteggio, parte Rocca, serie di ganci già, Rocca, gol, gol di Alex Rocca!